Io sono Sheriky e oggi siamo su... Youtubers Life! E' stato detto no? Ah! Grazie, ora dammi la paghetta! Subito la paghetta, eh! Vai veloce! Mangia! Mangati tutto il tempo, tutto il tempo! Vai! Più guardati, non voglio condividere l'appartamento! Vado a lavorare! Avevo fatto un paio di soldini! Poi a lavorare! Ok! Lavoro! Vado un altro un po'! Devo andare all'esame! Vabbè! Oggi condivido l'appartamento! Ma non lo voglio fare! Nooo! Cacchio! Non lo voglio condividere! Vabbè! Ora mi toccherà comprare cibo! E' un po' di nuovo! E mi dice! Mangia un sandwich! A per finito! Mangia! Mangia un sandwich! oh mio dio ho solo due sandwich niente panico per se comprai altro ci blocchia il canto vai compro tutto tutto compro tanto sappiamo vai compra solo 200 euro mi sono rimasti ma che problemi avete tutti e voglio di cacare c'è il pappagallo devo fare anche un video un po di rispetto no e che faccio la tua casa perché perché non si vede mezzo schermo vabbè no no aggiornava mi compro nuove robe ho tantissimi soldi per questo mi prendo una camera pro vabbè tutto sarà bello ok ora ho finito i soldi vabbè apro tutto eccomi e ora ho aperto tutto il nuovo computer aspetta che mi devo lavorare per un attimo quanti soldi ok via dal mio computer subito eccomi ho comprato dei sciocchi belli scusatemi se sto video sarà un po corto ma vabbè senza filtro ovviamente perché questa è un po corto ma vabbè scena di introduzione bla 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 sarà tipo sei minuti o cinque ma vabbè vai pubblica pubblica tutto non devo aggiustare ma c'ho tantissimi soldi quindi iscrivetevi al canale e lasciato un bel pollice in su e ciao a tutti